mancano ormai pochi giorni a natale anche su the division è arrivato babbo natale stamattina c'è stata la manutenzione e sono state aggiunte alcune cosine con un regalo annesso da oggi fino all'11 di gennaio per quelli di voi che entreranno nel gioco ci saranno in regalo ben 5 chiavi cifratura cioè le chiavi che servono per aprire le casse con vestiti emotes skin eccetera insomma per capirci quelle casse lì che si comprano con i soldi reali finalmente quest'anno durante il periodo natalizio hanno aggiunto un bel set di vestiti niente proprio di meno che di babbo natale lo vedete qui tra le collezioni c'è tutto il set naturalmente il cappello le scarpe il giubbottino i pantaloni e la sciarpetta insomma tra un po la zona nera diventerà più natalizia di quanto non lo sia già questo set si troverà soltanto all'interno delle casse festività che sono state introdotte stamattina e che trovate dal venditore premium naturalmente anche qui c'è di mezzo il fantastico rng quindi dipenderà molto dalla vostra fortuna e magari 5 chiavi non basteranno per ricevere tutto il set per esempio io con le mie 5 sono riuscito a trovare soltanto le scarpe ma mi sarebbe per me almeno bastato trovare il cappellino comunque è un'aggiunta simpatica per riscattare le vostre 5 chiavi non dovete fare altro che andare dal venditore delle risorse da riscattare qui all'entrata della base delle operazioni andare appunto su risorse e andare giù fino al tab valute qui troverete le 5 chiavi che potete mettere direttamente nell'inventario per poi usarle come detto dal venditore premium a questo punto visto che ormai ci siamo quasi non so se riuscirò a pubblicare altri video qui su youtube prima di natale ne approfitto per farvi i miei migliori auguri di natale ci avviciniamo anche alla fine dell'anno e volevo ringraziarvi tutti di cuore veramente per il supporto che mi avete sempre dato durante quest'anno siamo cresciuti veramente tanto insieme soprattutto su twitch con gli abbonati su telegram abbiamo stretto un bel rapporto di questo sono stra contento insomma per me è stato un anno fantastico e spero che il prossimo vada ancora meglio quindi di nuovo passate una felice vigilia un buon natale e mi raccomando non mangiate troppo che poi va a finire che vi addormentate con il joypad in mano ciaone